Bentornati a Storie di Donne al Bivio e buonanotte alla prima ospite che è un'amica, è una grande conduttrice, una donna che io personalmente amo molto e lei lo sa, Roberta Capua. Buonanotte Roberta, grazie di essere qui con noi. Grazie a te per l'invito. Noi eravamo insieme, mi parlo perché eravamo insieme in una puntata di un programma, quando a un certo punto ci siamo salutate e dopo poco mi ha mandato un messaggio dovevi raggiungere subito Napoli perché tuo padre si era sentito male ed eravamo a febbraio. Il 24 febbraio papà è scomparso il 25. Improvvisamente. Poi invece il 20 novembre è andata via mamma. Sai, ti vengono a mancare dei punti di riferimento. Mamma tra l'altro è una donna bellissima. Mamma è una donna bellissima, una donna di grande charme, di grande fascino, una donna discreta, una donna con un carisma particolare che purtroppo però già da qualche anno a causa di una bruttissima malattia non era più lei. Ma come tu sai l'amore dei figli non cambia. Lei era cambiata, era diversa perché aveva una demenza senile molto forte quindi addirittura nell'ultimo anno non ci riconosceva più ma per noi era sempre mamma quindi la sua scomparsa che è stata anche questa improvvisa, onestamente non ce l'aspettavamo, ci ha lasciati insomma io e un fratello, anche lui siamo rimasti molto addolorati e molto colpiti dalla vicinanza dei due eventi. Non abbiamo ancora elaborato il lutto di papà. Senti invece raccontiamola questa mamma nei ricordi che ti vengono in mente questa notte. Cioè i primi ricordi, proprio il primo che ti appare davanti agli occhi, la prima immagine di lei. Se ti dovessi dire il primo che mi appare è quando mi faceva aprire il suo cassetto. Lei aveva in un armadio tre cassetti e in uno custodiva tutta la sua bigiotteria, gli orecchini, gli anelli ed era il premio quando magari ero stata particolarmente brava. Così mi diceva puoi mettere a posto il mio cassetto. Io aprivo questo cassetto, tiravo fuori tutto, mi provavo tutto, guardavo. Sognavo, pensavo alla donna che sarei diventata. Naturalmente lei era il mio modello, per cui le sue cose. E oggi quando ho ritrovato alcune di queste cose, le tengo molto care. Senti, mamma negli ultimi tempi, l'hai detto adesso, aveva questa demenza, quindi aveva anche difficoltà a riconoscerti. Ma cosa ti diceva, se ti diceva qualcosa? Hai un ricordo di lei, di un abbraccio, di un momento di tenerezza? Più che di un abbraccio delle volte di dei sorrisi, di dei sorrisi improvvisi nei quali ravvedevo un contatto. E la mamma che era. Un contatto e la mamma che era. È una malattia bruttissima, è una malattia che ti porta via da quella che sei tu, da te stessa, non riconosci più chi sei, non ti riconosci più allo specchio. Ma inizialmente a essere un po' assente, poi a dimenticare le cose, poi purtroppo ho avuto un incidente, una brutta frattura, e da lì c'è stato il declino cognitivo. Una lenta discesa che sul finale è stata poi più rapida. E questa è una paura terribile che io ho. Guarda, io non ho paura di molte cose, sono una donna abbastanza coraggiosa, ma ho paura di una malattia di questo genere, che ti lascia il corpo quasi integro, perché fisicamente il corpo... Però ti prende la testa. Ma ti prende la testa e cancella i tuoi ricordi, non sai più chi sei, dove sei, lei a casa sua diceva dove sono, perché mi avete portato qui, non mi piace questo posto, eppure era casa sua, la casa dove aveva vissuto per tutta la vita, perché lei ricordava la sua casa dell'infanzia. Voglio andare in giardino, è che era una casa dove... che aveva il giardino, mentre la casa dove lei viveva il giardino non c'era. Non ce l'aveva. Senti, che nonna è stata per Leonardo innamorata di questo nipote, desideratissimo, perché come tu sai io l'ho avuto da grande ed è stata una sorpresa, ti ho raccontato che insomma è stato proprio veramente quasi un miracolo. Ti aveva diagnosticato la sterilità. Esatto. E poi invece è arrivato questo dono dal cielo. Quindi quasi un miracolo per loro, per i nonni, è stata una cosa pazzesca, l'unico loro nipote. E quindi mia mamma... E mi faceva tenerezza perché anche man mano che Leonardo cresceva, lei lo trattava sempre come un bambino piccolo, se lo coccolava sempre come un bambino piccolo. Insieme, con lei? Ah beh, bellissimo, perché quando ci sono i bambini Natale assume una magia speciale, quindi questo babbo Natale che era arrivato col cesto con i regali, Leo con un pigiamino natalizio, insomma molta tenerezza, molto amore, molto affetto. Per loro il nipote era una prospettiva, no? Era un futuro, era immaginare che cosa sarebbe diventato. E mi dispiace, insomma, che perderanno delle tappe della sua vita. Mio padre lo voleva vedere laureato addirittura. E vabbè. Senti, Roberta, che stagione stai vivendo adesso al netto di questi dolori, di cui sappiamo, ne abbiamo parlato, che sono dolori che arrivano nella vita. Eh sì, è diciamo il naturale corso della vita. Il naturale corso della vita. Però nel tuo caso sono arrivati tutti insieme e poi in un momento tuo anche particolare, in cui avevi lavorato tantissimo negli anni scorsi, poi ti eri un attimo fermata. Quindi che stagione vivi? Ma voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, voglio guardare al futuro con positività. Voglio indossare i famosi occhiali rosa e guardare al futuro come a una rinascita. Per quello che ti dico, saltiamo il Natale che può avere, diciamo, un gusto un po' di tristezza per quanto mi riguarda e guardiamo a questo 2024 che io mi auguro e voglio vedere pieno di cose belle. Pieno di cose belle nel lavoro, nella vita personale. Certo, il dolore per la perdita dei genitori rimane, però bisogna andare avanti, bisogna guardare avanti. E così sarà, secondo me, e così sarà perché ci sono tutte le condizioni per che avvenga questo, no? Questa che tu chiami rinascita, ma che secondo me è nell'evoluzione delle cose. Tu sei una grande professionista, sei una donna di grande talento, ma soprattutto di profonda sensibilità e quindi tutto questo arriverà. Però invece io volevo capire da te se tu ti attribuisci, a parte gli eventi naturali, delle colpe. No, ti devo dire la verità. C'è qualcosa che tu hai sbagliato negli anni. Oddio, tutti facciamo degli errori, però se dovessi dire di aver fatto degli errori che hanno poi indirizzato la mia vita in maniera drasticamente sbagliata o perlomeno che io ho vissuto così, no. Io sono una persona che sta molto con i piedi per terra, molto riflessiva e che prima di prendere una decisione, quando si tratta di decisioni importanti, devo ponderare molto. quindi cerco sempre di ascoltare la mia voce più profonda, quelli che sono i miei desideri più profondi e di non tradire me stessa. Questo è accaduto quando ho smesso di lavorare per mio figlio, questo è accaduto quando ho preso delle decisioni dal punto di vista lavorativo, per esempio la scorsa estate, sono decisioni molto ben ponderate e che quindi non recrimino delle scelte fatte, che agli occhi di altre persone possono sembrare strane, possono sembrare degli errori. No, io sono sempre abbastanza sicura di me stessa quando faccio una scelta e ripeto, so solo io quello che poi intimamente questa scelta comporta. Comporta. Questo è molto interessante perché invece nelle donne c'è spessissimo la tendenza a scegliere in maniera frettolosa, a non analizzare, a non metabolizzare e spesso anche a non vedere alcune cose, alcuni momenti di criticità esterna e tu per esempio fai questo errore e ti è capitato di farlo? Mi è capitato. Di non guardare. Sì, mi è capitato. Di non guardare alcune cose che erano davanti agli occhi e che poi invece improvvisamente tu dici ma come ho fatto? Sì, mi è assolutamente capitato, però nel momento in cui mi accorgo di aver travisato o di non aver visto quello che avevo intorno corro immediatamente ai ripari. È senza appello. Sono una che quando prende una decisione è quella ed è senza appello. perché, come ti dicevo appunto, la pondero bene. Difficilmente mi sono pentita, non ho dei grossi rimpianti. Io vivo di entusiasmi, quindi ho sempre poi un obiettivo che mi entusiasma. Ti sei sentita in alcuni momenti tradita dalla vita? Sì, qualche volta sì, perché tutti noi abbiamo nella nostra testa dei progetti, delle idee, delle cose che vorremmo fare e che poi non facciamo. Cosa volevi molto che non è successo? Per esempio, volevo laurearmi. Era una cosa che avrei voluto tanto e qui sì, devo dare la colpa a me stessa, ma non è detto che questo non accada. Non accada. perché mi sono fatta prendere dal lavoro, quando ho iniziato a lavorare facevo la modella, viaggiavo moltissimo, guadagnavo in maniera facile perché comunque era un lavoro facile e ho accantonato gli studi. Questo forse è uno dei grossi rimpianti che ho della mia vita. Avrei potuto impegnarmi di più, avrei potuto conciliare lo studio e il lavoro, non l'ho fatto e oggi lo rimpiango. Lo rimpiangi. E cos'altro volevi? Ma diciamo che più o meno quello che volevo dalla vita l'ho ottenuto. Un lavoro... Mamma che ti diceva rispetto alla tua vita, alle scelte che avevi fatto. Beh no, lei mi voleva vedere mamma, però appunto sapeva che avevo una difficoltà, mi avevano diagnosticato appunto un problema, per cui non ha mai poi insistito più di tanto, sarebbe stata indelicata. Per quello ti dico che quando è nato Leonardo è stata proprio per loro veramente l'hanno considerato quasi un miracolo. Lei mi vedeva mamma. Secondo lei qual era il difetto che tu avevi, visto da tua madre? Difetto caratteriale. Ah, di essere permalosa. E in effetti un pochino lo sono. Cioè di non saper perdonare? No, di prendere delle volte delle cose dette magari da un'altra persona con leggerezza o senza malizia o senza cattiveria invece di farmene un cruccio. Con l'età ho imparato però a farmi scivolare un po' di più le cose, a essere più accomodante e a capire che magari tante volte le persone dicono delle cose perché ci sono delle motivazioni dietro e non solo per ferire o per fare male mentre invece quando ero più giovane in questo ero più impulsiva mi turbavo molto. Non accettavo le critiche, ero un po' più rigida in questo senso. Oggi poi nel mondo dei social dove facilmente si viene criticati, si esposti diciamo ai commenti del pubblico e delle persone che ti seguono o di quelle che non ti seguono bisogna imparare a essere un po' più flessibili e a prendersela di meno. Agli occhi della gente, del tuo pubblico hai sempre avuto tutto quello che volevi, no? Quindi questa stagione di gioventù come la chiami tu, no? Appartiene ai tuoi vent'anni, ai trenta? Ai trenta, direi. Se tu mi dicessi vuoi tornare indietro a qual'epoca della tua vita, io direi ai trenta. Mi sentivo realizzata, mi sentivo bene e ti dirò una cosa, mi guardavo allo specchio e mi vedevo bella. Cosa che non è sempre accaduta nella mia vita. In quel momento mi vedevo bella, mi vedevo... Per una donna è importante sentirsi bene nel proprio corpo. Sono gli anni, appunto, se dovessi tornare indietro, tornerai indietro a quell'epoca lì. A quell'epoca lì. Né prima e né dopo. A venti forse ero più giovane, ero più fresca, ero più... Però a trenta mi sentivo sufficientemente matura per andare nel mondo, ecco. Adesso se guardi allo specchio cosa vedi? Vedo una donna di cinquantacinque anni, perché ho cinquantacinque anni, che vuole imbecchiare dolcemente, che vuole vivere una vita piena, che vuole ancora avere entusiasmo per la vita. Mio padre mi diceva sempre tutti entusiasmi per le piccole cose, ed è vero. Per esempio, l'ultima cosa che mi ha entusiasmato da morire è l'albero di Natale che ho fatto a casa, che era come lo desideravo da anni. Quest'anno l'ho fatto e mi sono entusiasmata tantissimo, mi piace, lo adoro. Tu dirai che cosa sarà mai. E invece sono le piccole gioie che mi danno forza. La prima piccola gioia, spero di tante future. Dopo tante lacrime per i tuoi genitori. Però hai una gioia meravigliosa, perché hai un figlio stupendo, Leonardo, e quindi ti aspettano solo cose belle. È un ragazzo d'oro, io lo dico sempre, lui si vergogna se io lo dico, ma tanto a quest'ora non ci ascolta, e mi dà veramente tanto, tantissimo. E ti ama immensamente. È la cosa ovviamente. Ti protegge e ti ama. Torno tra poco, vado a...